Una componente fondamentale presente all'interno dell'UPS è sicuramente la batteria. Quali sono le caratteristiche fondamentali che un installatore deve considerare nella scelta? La batteria è fondamentale, soprattutto oggi che vengono richieste delle autonomie leggermente più lunghe di quelle di un tempo. È importante comprendere che nessun produttore di UPS produce le proprie batterie, quindi vengono acquistate da fornitori di batteria e del carico che assorbendo in watt determina l'autonomia della batteria. Quindi è importantissimo che le richieste di autonomia vengono fatte dimensionando il carico in kilowatt, quindi non più dire 10 kilowatt ampere 10 minuti, ma dire piuttosto 10 kilowatt 10 minuti. È possibile verificare i dati? È possibile verificarlo, è sufficiente che l'installatore chieda al produttore di UPS di fornirgli il numero dei monoblocchi, il modello e il tipo di batteria, perché questo dato è un dato fondamentale per capire se l'autonomia che viene proposta è quella che viene richiesta. Cosa deve chiedere un installatore per avere la certezza che ciò che sceglie corrisponde esattamente alle proprie esigenze? Il produttore di batteria rende disponibile un documento tecnico con delle tabelle di scarica ed è proprio attraverso queste tabelle, conoscendo la struttura della batteria, quindi il numero dei monoblocchi, che si può facilmente verificare con una banale moltiplicazione se l'autonomia resa disponibile è identica a quella richiesta. Grazie per la visione!